Dopo l'allarme meteo della protezione civile, il comune di Benevento consiglia ai cittadini delle aree già colpite di mettersi in sicurezza allontanandosi dall'abitazione o salendo ai piani alti. L'annuncio si rivolge in particolare ai residenti delle contrade di Ponte Valentino, Pantano, Ponticelli, Santa Clementina e via Cosimo Nuzzolo. Da martedì altri cento uomini per affrontare l'emergenza, ha rassicurato il capo della protezione civile. Circa un migliaio di persone, residenti nelle contrade di Ponte Valentino, Pantano, Ponticelli, Santa Clementina e via Cosimo Nuzzolo di Benevento sono state fatte allontanare dalle proprie abitazioni si disposizione del comune. Diversi abitanti, però, non hanno abbandonato le case, preferendo sistemarsi ai piani alti delle abitazioni. Residi della protezione civile e della polizia municipale sono stati allestiti all'ingresso delle zone a rischio per vietare l'accesso. La procura di Benevento ha aperto un fascicolo contro i gnoti per il reato di inodazione colposa. Un consulente della procura ha fatto un sopralluogo nella zona della diga di Capolattaro. Intanto un'ordinanza del sindaco ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del comune anche per la giornata di martedì. Per la ripartenza delle normali attività didattiche saranno diffuse comunicazioni ulteriori legate all'evolversi del quadro di emergenza in atto. È allarme a Castelpagano, Benevento, nella zona del fortore, al confine Colmulise. Sul paese si è abbattuta una bomba d'acqua. Ruscelli esondati, strade che si sono trasformate in fiumi di fango alto mezzo metro, numerose segnalazioni di frane su varie arterie stradali locali e nel centro del paese, a rischio ora ci sono anche alcune abitazioni per le quali si sta ipotizzando lo sgombero forzato. Tutte le contrade del paese sono praticamente rimaste isolate. È sempre più drammatica la situazione nella provincia di Benevento. A causa del nubifragio infatti anche i fiumi Tammaro e Calore sono esondati. Situazione sempre più difficile da gestire è Basilice, San Bartolomeo e Galdo e altri paesi della zona forturina. Tra i centri più colpiti dalla nuova perturbazione c'è anche Pesco Sannita. Grazie a tutti.